Salve a tutti amici di Youtube, oggi posto la decklist del mio Sanctuary Agent Di solito ho caricato, come avrete potuto notare, Chaos Agent Ovviamente se volete caricherò anche quella versione aggiornata, la banner attuale E quindi cominciamo Allora gioco soltanto una Hyperion perchè troppo c'è f***o e ste merd, tre Hyperion che son fighi Poi tre Terra, con le quali ci diamo le Venere Oppure le new entry Urano Che sono veramente molto forti Ovviamente con il Sanctuary Scoperto e tre Palle Che Palle Quando arrivano in mano veramente, vabbè, nulla Vabbè quanti doppi sensi, nulla Facciamo sta Poi Trezzi Radies si chiama Sto giocando a 3 però non so se portarlo a 2 Insomma sono un po' indeciso però forse meglio a 3 Poi Doppio Cristia Che lui è un figo, prima entra e prima vinci Se tutto si va bene Poi Doppio Raldo Non gioco più Vailer, o meglio non gioco a Vailer in questa versione Dato che siamo pieni di, non mi sto a dire di palle, vabbè Siamo pieni di fate Onesto E Maxi Che Maxi è figo Siamo alle magie Abbiamo ovviamente tre santuari Nel cielo perché in terra non ci sono Tre carte dal cielo perché ovviamente in terra non ci sono Tutto in alto Poi due Valhalla Si chiamano così, non lo so Poi sto provando a giocare due Trade-in Quando la mano è un po' merdina Doppia lancia Che ci pariamo il culo O meglio pariamo il culo a Hyperion e Cristia E poi Mind Control Gioco Mind Control Che la vedo molto utile in questo mazzo Quanto Shadow, che ne so Abbiamo per esempio Falco Prendiamo E insomma C'è il giusto equilibrio tra Tanner, non Tanner Non so come spiegare la situazione Però vi consiglio di giocarlo Poi Tre punizioni divina Qua ne vedete solo due I mei mi manca la terza E niente E poi Tre Call of the Hunted Per l'extra abbiamo Star Eater FANCO Ci abbiamo Iperion Vabbè ragazzi Questo era il deck profile Deck profile del Sanctuary Agent Mettiamo i tre Iperion figoni lì E niente Lo so che forse è la peggior decklist Agent che abbia caricato Ovviamente se volete Caricherò Chaos Agent Cercherò di montarlo Quindi lasciate un mi piace Iscrivetevi al canale Un commento Nel video E niente A rivederci al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti